Adesso vi faccio vedere come si fa una rossa a regalare a qualcuno che volete bene. Serve un pazzoletto così che si può separare e diventa tre pezzi. Uno, due, poi c'è il terzo. Tre pezzi. Inizio con quello blu. Lo voglio così, così diventa fuori il blu dentro. Faccio così, rotolo. Poi l'appoggio qua sopra e inizio a rotolare più grande. Qua lascio tipo questo spazio. Rotolo. Qua rotoliamo grande. Dobbiamo di lasciare spazi qua, perché così diventa dentro come la rossa. Quella dentro l'ho lasciata un po' più in basso, così diventa più bello. Questo. Stringo. Vediamo qua. Si tira fuori una foglia. Per esempio qua. Lo alzo. Adesso lo sistemiamo. Questa è la parte di recente. Qua un po' grosso. Sì. 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 Grazie a tutti.